Musica Amici e amici di Super J, buongiorno, ben svegliati Sabato 24 giugno, temperatura sicuramente più gradevole questa mattina Poi vedremo a conclusione della nostra rassegna stampa le previsioni meteo del nostro Marco Di Loreto Buongiorno, questa mattina arriva anche da Maurizio Valeriani in regia per la Messa in Onda Come sempre sul canale 16 di Super J Tra poco inizieremo a dare uno sguardo alla prima pagina delle quattro edizioni del centro E poi approderemo sulle pagine del messaggero dando uno sguardo alle notizie nazionali e internazionali Prima di approdare sulle pagine dell'inserto abruzzese Bene, iniziamo subito dalla prima pagina dell'edizione di Teramo del centro Due ex pazienti contro Ciarrocchi, il ginecologo a processo accusato di abusi sessuali Mai denunciati Altre notizie Espianto all'ospedale di Teramo, muore a 72 anni Donati gli organi salveranno vite anche all'Aquila A Teramo il post sisma parte la gara Il Museo Savini riaprirà nel 2027 Fotonotizia che riguarda la Guardia di Finanza Il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza In occasione del 249esimo anniversario della Fondazione del Corpo Lavoro Nero Nei guai 61 imprenditori Appalti irregolari per 2,3 milioni di euro A Giulianova gli appuntamenti con l'estate Al Via e la Stagione con 200 eventi Il Carnevale 4 big della musica Il Clu del calendario Roseto e Residence Estracolmo di Migranti Sono 320 Silvi giunta Ecco le deleghe a Di Marco Le più pesanti Chieti Raduno alle 15 Abruzzo Pride Oggi il corteo Attesi 2 mila partecipanti La ciclovia aperta a tutti Ecco il progetto Da 1,2 milioni di euro Regione Il Consiglio riparte con nuovi fondi E la legge Marcozzi Andiamo adesso Questa è l'edizione di Teramo Che abbiamo già visto Andiamo a Chieti 5 anni per uscire dal dissesto Comune in default Tagli a servizi e assunzioni Ecco che cosa cambia Anche per l'edizione di Chieti La fotonotizia riguarda La Guardia di Finanza Scoperti però nel teatino 55 evasori Frodi per 18,5 milioni In corte d'assise Uccise il vicino Nuova perizia psichiatrica Su Petro Semolo Danni dal maltempo Stato di calamità Parte la richiesta per il settore agricolo Palizzate per bloccare la frana Emergenza nel medio vastese Conduttura spezzata Da 6 giorni 15 comuni Sono senza acqua Avvasto alla Ecofox Ampliamento Depuratore e assunzioni Pescara Colpo grosso Gioca un euro E porta a casa Un milione Complimenti al fortunato Vincitore L'edizione dell'Aquila Avezzano sul Mona Bolliauto Un mese per gli arretrati Entro il 31 luglio Le richieste di cancellazione Di sanzioni E interesse Allarme sicurezza Nel carcere del boss I sindacati Più personale All'Aquila Dove è rinchiuso Matteo Messina Denaro 5 misure cautelari Cocaina venduta A insospettabili Retata nel fucino Avezzano La politica Maggioranza In crisi di nervi Attacco dell'opposizione L'ITI Continua La città è bloccata Sul Mona Macellaio morto Il GIP Schagiona Il chirurgo Calcio e turismo Il Napoli In alto sangro Assunzioni Negli alberghi Lasciamo il centro Intanto vi ricordiamo Che ieri sera C'è stata Per quanto riguarda Il calcio abruzzese La grande Kermess Organizzata Dal comitato regionale Della LND Dal presidente Ezio Memmo Con il gran galà Appunto Del calcio Abruzzese Tanti Gli ospiti Illustri Abete Presidente Della LND Ma soprattutto Gravina Gabriele Gravina Presidente Della FIGC Poi nel corso Del TG Sport Oggi vi proporremo Alcuni servizi Sono state premiate Sono stati premiati Anche atleti Sono state premiate Le società Che si sono contraddistinte Nell'arco Della stagione Parliamo anche Del calcio 5 Del calcio femminile Insomma Una bella manifestazione Che noi vi abbiamo proposto Tra le altre cose In diretta Nella giornata di ieri Andiamo adesso Sulle pagine Del messaggero Iniziando Dalla prima Statale Subito La liquidazione La consulta Incostituzionale Rinviare Il versamento Del trattamento Di fine Servizio Per l'erario Un conto Da 14 miliardi Pagamenti Graduali Per 1,6 milioni Di pensionati Messa Anche Forza Italia Adesso frena Voto verso lo slittamento A settembre La morte di Manuel Finisce ai domiciliari Lo youtuber Indagato Parliamo del bambino Di 5 anni Che è stato Praticamente ucciso Da dei balordi Che guidavano Un suo Una notizia Curiosa In New England Una donna Che ha 103 anni Virginia Oliver Ha rinnovato La licenza Per la pesca Delle aragoste In realtà Non sono aragoste Ma astici Dell'Atlantico Andiamo avanti Statali La consulta Pagare il TFR In ritardo Viola La Costituzione I giudici Lo slittamento Della liquidazione Le del principio Della giusta retribuzione Richiesta Dal Parlamento Di rivedere Le norme Ma c'è l'apertura A una soluzione Graduale Vanno trovati Tra le altre cose 14 miliardi In attesa Dell'assegno 1,6 milioni Di pensionati La liquidazione Subito A chi guadagna Meno Tra le altre cose È stata fatta Un'analisi Sulla situazione Attuale In pratica L'ipotesi Di pagamenti Immediati Soltanto Per chi ha maturato Tra i 45 E i 50 mila Euro L'offensiva Dei sindacati Lunedì La questione Sarà portata Alla tavolo Delle pensioni Andiamo Avanti Ecco qua Perché c'è una notizia Che ha messo In subbuglio Il mondo Della pesca Strascico Vietata Secondo L'Unione Europea In sostanza Dovrà essere bloccata Entro il 2030 A rischio 2 mila Imprese Secondo L'Unione Europea Sono pratiche Dannose Per i fondali C'è una sollevazione Bipartisan Contro il piano Così diventeremo Dipendenti Dall'estero Ma questo è assolutamente Vero perché Bloccare La pesca A strascico Probabilmente Bisogna studiare Un piano Per Evidentemente Danneggiare Il meno possibile I fondali Però La pesca A strascico È una risorsa Molto importante Per l'economia Del territorio Pensiamo che L'Italia è circondata Dal mare Per tre quarti Impedire Alle imprese Di lavorare In questo settore Significherebbe Facilitare L'importazione Del pesce Atlantico Del pesce Oceanico Del pesce Anche Congelato Surgelato A bordo E a prezzi Notevolmente Più cari Bisogna Chiaramente Trovare adesso Un compromesso Per Non danneggiare Il settore Leggiamo qualche numero Perché Ci dicono Questo I numeri Sono 7000 I lavoratori Del comparto Ittico Interessati Dalla pratica Della pesca A strascico Secondo le associazioni Di categoria Con il nuovo regolamento Potrebbero subire Dei tagli Il 50% E la percentuale Dei ricavi Del comparto Ittico Prodotta In Italia Dalla pesca A strascico Che coinvolge Il 20% Della flotta Dei pescherecci Con oltre 2000 imbarcazioni 66.000 Le tonnellate Di pesce Raccolte Nelle acque italiane Nel 2019 Grazie alla tecnica Della pesca A strascico Il 37% Del totale Per un valore Pari a 480 Milioni I vincoli Imposti In Europa Lasciano campo libero A libici E tunisini Già oggi Viene dall'estero L'80% Dei prodotti Pensate che l'Italia E' costretta Di importare Già con questa situazione Il prodotto Ittico La notizia invece Del Titan Il battiscafo Che è imploso Secondo gli esperti Sono stati Ignorati Tutti i problemi Guai Del Battiscafo Appunto Perché si parlava Di materiali Non idonei A cominciare A partire Dalla fibra di carbonio Morti In un millisecondo Gli esperti La fibra di carbonio Non poteva resistere Alla pressione A quella profondità Parliamo di circa 4000 metri Di profondità Se calcolate Che ogni 10 metri Aumenta Di un'atmosfera La pressione Sul Sul sistema Quindi Anche Su questo mezzo Costruito Senza avere La certificazione Per raggiungere Le profondità Implosione Molto rapida A bordo Non hanno realizzato Cosa stava Succedendo Sono 5 le persone Morte Tra queste Anche Un padre Miliardario Con il suo figlio Di 19 anni Eccola qua La notizia Di prima pagina Usa il record Di Virginia Pescatrice A 103 anni Io regina Delle Aragoste Andiamo adesso In Abruzzo A dare uno sguardo Alle notizie Del nostro territorio Eccoci qua E bufera Sui lavori pubblici A Pescara Dopo lo scandalo Le categorie Chiedono Lumi Sui cantieri Troppo alto Il rischio Ritardi I cittadini Si mobilitano In vista Del consiglio Di lunedì Masci Intesa Con l'ASL Per i test Antidroga Omicidio Di Cicillo E guerra Di perizia Lanciano L'assassinio Dell'ex Inbianchino Artista Cade la presunta Incapacità Di intendere E di volere Il rapporto Sull'Abruzzo Studenti Il crollo Del 30% Urge Un cambio Di passo A Pescara A Million Day Maxi Vincita Da un milione Praticamente Un milione Dato Con un euro Appena speso All'Aquila Trattori d'epoca Scalano il Gran Sasso La marcia Verso Campo Imperatore Altre notizie Di prima pagina Lupa Investita E salvata Poi muore Travolta Da un'auto Il veterinario Liberatore Selvatici Non percepiscono Il pericolo Del traffico Il dibattito Emergenze Fattore Casa Pianificare Cambiamenti A Pescara E Chieti Guardia di Finanza La festa La festa Per La fondazione Appunto Del corpo Il bilancio E un allarme Per i fondi PNRR Il calcio Di serie C Mero La rifiuta La serie B Vuole restare Con il Pescara All'interno Studenti Il crollo Del 30% Urge Un cambio Di passo La fratta Della CGL È una questione Che deve essere Analizzata A 360 gradi Interventi Strutturali Per migliorare Le condizioni Per supportare I nostri Atenei Dal mezzogiorno I giovani Vanno al nord Tutto questo A motivazioni Ben precise Imprese In Abruzzo Via l'accordo Tra Banca Intesa E Confartigianato De Angelis Di tua Al lavoro Sempre più Per mobilità Green Pescara Urge lo stop Ai cantieri Dopo lo scandalo Compatte Le imprese Richiesta sanitaria E unitaria Delle associazioni Di categoria Che minacciano La serrata Possibili ritardi Dopo l'inchiesta I lavori Su Corso Vittorio Vanno fatti Dopo l'estate Penalizzante Per il turismo E per lo shopping Chiudere La via centrale Durante il periodo Dei saldi Riempiamo L'aula Consigliare Comitati civici Mobilitati In vista Della seduta Di lunedì Il coordinamento Nella città Che contesta Le scelte Dell'amministrazione Tutti interventi Privi di visione Masci Intesa con l'asle Per i test Antidroga Ricordiamo che Il primo cittadino Ha deciso di Agire in questa direzione Verificare se Nella struttura Nella casa Del comune Ci sono dipendenti Che fanno uso Di sostanze Stupefacenti Appalti E mafia foggiana L'anno super Della finanza Il bilancio Del comandante Antonio Caputo Durante la cerimonia Per i 249 anni Del corpo Dietro le principali Inchieste Spiccano i dati Della lotta All'evasione fiscale 900 le denunce Sono 68 Gli evasori totali Scovati nel 2022 Nella lotta All'narcotraffico Brilla il sequestro Di 54 kg Di sostanze Stupefacenti Castellammare L'ultima citazione In una lapide I nomi Dei caduti Della grande guerra Incisi Sulla facciata Del vecchio municipio La rivelazione Dello storico Licio di Biase Unica memoria Della città A nord del fiume La storia del 1927 Destinata a ripetersi Con una nuova pescara Presto Cimeli Anche le targhe Di Spoltore E Montesilvano E statica Musica d'Abruzzo I migliori gruppi Ad acustica Alla marina La serata dedicata Ai talenti Locali in grado Di varcare I confini regionali Accanto Ferri Pier e tanti altri Montesilvano Maxi isole Maxi isole Pedonali Per quanto riguarda La stagione estiva Le strade del turismo Ospitano i mercatini Dal 30 giugno Fino al 31 agosto Chiusure serali Nella zona Dei grandi alberghe Di Corso Strasburgo Inseguimenti E multe Giro di vite Della polizia Stradale Che ha iniziato Controlli a tappeto Andiamo all'Aquila Lavoratori della Copp Della RSA Equiparati a dipendenti Dell'ospedale Lo ha stabilito La Corte d'Appello Sezione lavoro Per gli addetti Alla struttura Di Monte Reale La prima notte Bianca Della città Territorio L'8 luglio Collaboreranno Insieme I due comuni Di Scoppito E l'Aquila Presente anche Un mercatino Di eccellenze Locali In collaborazione Con la FIVA Villa sitina A preturo Sicurezza E carenze Di organico Protesta Dei sindacati Al carcere All'Accademia Delle Belle Arti La collezione Di Ulisse Nurzia Ieri mattina Consegnate Le macchine Fotografiche Del popolare Ninetto Mancano Gli infermieri Così ospedale A rischio Denunciamo Per l'ennesima volta La cronica Carenza di personale Situazione critica Nelle sale Operatorie Dialisi Otorino E chirurgia Maxillo Facciale Per il sindacato Alla base Ci sono La non sostituzione Di chi va in pensione In maternità O in malattia Ripartizione Fondi Edilizia sanitaria San Salvatore Troppo penalizzato San Salvatore Lo ricordiamo E l'ospedale Di Pescara Nell'Aquilano Un sabato Denso di appuntamenti Annavelli Prende via L'atteso evento La notte romantica Nei borghi Più belli D'Italia E poi Sipari Direttore dell'opera A Tirana Jacopo Appunto Sipari Anzi Si ha Jacopo Sipari Il nuovo direttore Dell'opera di Tirana La grotta di Aligi Di chef Mario Capogno Tra letteratura E piatti tipici Abruzzesi Si va adesso Ad Avezzano Il convegno Emergenza E fattore casa Pianificare i cambiamenti Incontro Alla Castellorsini Sul futuro Del territorio Tra urbanistica E resilienza Ad Alfonso Rendere sicuri Edifici E città Castelli Dice Ricostruire E migliorare Gli interventi Castelli Ricordiamo Guido Castelli Che è il commissario Per la ricostruzione Lavoro nero Gli ispettori Nel Fucino Anche 12 ore Nei campi E paga bassa Menze scolastiche Scoppia la polemica Sul capogruppo PD Il caso Della Schlein L'unica offerta Arrivata È di una ditta Che ha la sede legale Nell'ufficio Del consigliere Mimmo Di Benedetto Spaccio di cocaina Cinque arresti Ad Avezzano Dopo il blitz Delle forze Dell'ordine Duro scontro In consiglio Ad Avezzano L'attacco Dell'opposizione Contestata Anche la Conduzione Della Sise Cittadina Malumore E critiche Si spostano In sala consigliare A Chieti Evadono il fisco Totalmente La finanza Stana 55 soggetti L'attività Delle fiamme gialle Ha fatto registrare Numere importanti Comune Dopo il dissesto Anche i servizi Le conseguenze Del terremoto Finanziario Tasse al massimo Riduzioni In altri settori In furia la polemica Fratelli d'Italia Contro Ferrara Di Roberto La città Eferman Medioevo Sul fronte Teatri e servizi Il sindaco Ha illustrato Una proroga Del contratto Agricoltura Ma al tempo Sarà chiesto Lo stato Di calamità A San Martino Giochi e sport In piazza Domani L'evento Organizzato Da Coni Associazioni Programma Per Bimbi E Anziani All'Angelini Il memoria All'aperdino La gente Morto A Rigopiano Andiamo adesso A Lanciano Omicidio Di Cicillo Guerra Di Perizie Petro Semolo È accusato Di aver ucciso L'ex Mianchino Artista Smontata La tesi Sulla presunta Incapacità Di intendere Volere La corte La corte D'assise Chiede A tre Professionisti Nuovi accertamenti Tensione In aula La PM Ha progettato Tutto Non è stupido L'imputato Ha preso La parola Per ricusare La pubblica accusa E annunciare Il cambio Di legale L'ospedale Di vasto Scontro Tra il direttore Generale E la politica Approvato Il rendiconto 2022 Ad Ortona Fondo cassa Di 3,5 milioni Di euro Arriviamo a Teramo La notizia Riguarda La giudiziaria Ciarrocchi Provò a scusarsi Maledisse Anche di stare zitta Testimonia Al fidanzato Della ragazza Che avrebbe subito Violenza sessuale In aula Una donna Che ha riferito Di essere stata Molestata A 16 anni Imputato Il ginecologo Teramano Per abusi Su una 19enne Che lavorava Con lui Alzheimer E demenze Malati senza posti letto L'analisi Della CGL L'apertura Di Bivio Bellocchio A Giulianova Non basta Per tutte le esigenze Donna muore Per emorragia cerebrale E salva 5 vite Allora Prima di approdare Sulla pagina Che riguarda La costa E comuni costieri Andiamoci a seguire Questo servizio Tratto dal J News Andato in onda Nella giornata di ieri La prima edizione Parliamo di sanità Con la CGL Vediamo Domani a Roma Per la manifestazione nazionale Insieme per la Costituzione Dedicata al tema Della salute La CGL di Teramo Porterà anche All'attenzione I temi legati Alla salute Sul territorio Teramano Quali sono Segretario in particolare Le vostre priorità In particolare Tendiamo a ridurre Le liste di attesa Chiedendo alla ASL Di attivare Quei percorsi Di protezione Dei percorsi Di tutela Previsti Dalla normativa Dalla normativa Vigente Siamo fortemente Siamo fortemente preoccupati Per il nuovo taglio Che si vuole dare All'assistenza domiciliare Integrata Nella nostra provincia Introducendo Un sistema Di accreditamento Che non ci convince Che crediamo Che peggiori Il servizio Ma non è solo ASL La sanità Abbiamo sul nostro territorio L'istituzzo profilattico Nei giorni scorsi Abbiamo sottoscritto Poi un accordo Sulla premialità Covid Una avvertenza Che come Cigelle Abbiamo vissuto Fin dall'inizio Non firmando La proposta Che la regione Ci aveva fatto E che lasciava Fuori dalla premialità Covid Proprio i dipendenti Dell'istituzzo profilattico Grazie alla collaborazione Dell'istituto Anche questa vicenda È venuta È stata risolta Saranno 600.000 Gli euro Gli euro Disponibili Per i 315 Dipendenti Dell'IZS Non ci accontentiamo Perché Rimangono fuori Da questa partita Per dei cavilli Burocratici Tutto il personale Che lavora In istituto Ma che non è Dipendente Dell'istituto Con il messaggero Andiamo a Giulianova L'estate Con 200 eventi Presentato Il calendario Delle manifestazioni Concerti Iniziative Per i più piccoli Appuntamenti culturali Costantini Intanto annuncia Che a ottobre Si dimette da sindaco Per candidarsi Alla regione E messi da parte I fondi Per Natale Lucumbara Fiore Notte rosa Dei bambini Doppia festa A Tortoreto Tutte le iniziative A Giulianova Restituiti I quadri Di Aligi Sassu Rubati A suo tempo Erano state Opere Trafugate Esattamente Nel 2000 Ipronotizzate Derubate Da due ladre Che volevano Informazioni Sulla casa Il fatto è accaduto A Giulianova Dal Badriatica Campionati italiani Di triathlon Un test per le Olimpiadi Di Parigi 2024 Mastro Mauro Verso un nuovo addio Alla PD L'ex sindaco Tentato dal civismo Con gli ex assessori Filippone E Mastrilli Che potrebbe candidarsi A sindaco Praticamente Mastrilli potrebbe essere Il candidato sindaco Per un gruppo Civico Lo sport Merola Rifiuta la B Vuole solo il pescare Respinti gli assalti Di alcune squadre Il talento campano Resterà per un anno Delfino ed Empoli Si vedranno lunedì Per definire i dettagli Dell'operazione I prossimi colpi Saranno Collodel E squizzato Ma resta da capire Quale formula Per avere i giocatori Ventola Un bene Ripartire da Mister Zeman L'ex difensore Dal cuore Biancazzurro Che delusione La semifinale Bisogna ripartire Ricordiamo che poi In finale Il Foggia Ha affrontato Il Lecco Che ha vinto Sia nella gara di andata Sia nella gara di ritorno 2-1 a Foggia In rimonta Tra l'altro Una caratteristica Del Lecco E poi 3-1 in casa Il Lecco Che ha però Il problema Dello stadio Deve scegliere L'impianto Dove giocare Si parla probabilmente Di Padova In quanto La struttura Di Lecco Del Lecco Non è adeguata Per affrontare Il campionato Di Serie B Addirittura Si parlava Di un'esclusione Del Lecco Dal campionato Dal campionato Di Serie B Con ripartenza Dalla Serie D Perché i termini Per l'iscrizione In Serie C Sono abbondantemente Scaduti E quindi Dovrebbe fare Un salto Un doppio salto All'indietro Vedremo come si svilupperà Nei prossimi giorni La vicenda Perché il Foggia È squadra Società Interessata Qualora venisse Cancellato Il Lecco Dal prossimo Campionato Di Serie B Sarà il Foggia Ad essere ripescato Che ha perso La finale Appunto Con i Lombardi Il personaggio Addio al gentleman Enrico Graziani Ha fatto la storia Del calcio In Abruzzo Giocatore Mister E poi direttore In numerose piazze Aveva scelto Di vivere La città Sant'Angelo Ieri è stato ricordato In occasione Del grangala Del calcio Abruzzese Enrico Graziani Aveva 76 anni Ecco qua La Kermes Calcio Brillano le stelle Al teatro di Sulmona Il grangala Che chiude la stagione Assente Mancini Fabio Grosso È invece inviato Un videomessaggio Premiati Vincitori Dei campionati E il presidente Gravina Sono stati Assegnati Altri tre Riconoscimenti Particolari Silvio Brocco Del Pineto E il giovane Cavuoti Tra gli altri I protagonisti È stato interessante Comunque intervistare Gravina Perché Gravina Poi ha posto L'accento Sul fatto che Il movimento Abruzzese Comunque dilettantistico In generale È molto importante Ci sono numeri In crescita Come ha ricordato Anche lo stesso Abete Il presidente Della LND Colpaccio Giuliano Val Giallo Rosso In giallo Rosso Arriva l'ex L'Aquila Marchionni L'attaccante Che dunque Va a rinforzare Il pacchetto Offensivo Di mister Luciano Cerasi Notturna Pennese Trentottesima Gara serale Teramo Teramo Più vicina L'intesa Per giocare In casa Al Bonolis Intanto Il sindaco Di Monterosi Scrive A Gravina Non capiamo Lo spostamento In Abruzzo In realtà È stata la società Del Monterosi A chiedere Di poter utilizzare Per le gare Di campionato L'impianto Teramano Bacio Terracino Intesa Vicina Con l'Aquila L'ex Giocatore Del Teramo Potrebbe essere Un nuovo Giocatore Dell'Aquila L'Aquila Ricordiamo Approdata In Serie D Siamo ormai Ai dettagli Bene È tutto Per quanto riguarda Questa rassegna Stampa Io vi ringrazio Per l'attenzione Tra poco Ci rivedremo Alle nove Con l'appuntamento A colazione Saremo a Bellante Ospiteremo Maglio Ricciotti Il medico Maglio Ricciotti Ebatologo Parleremo Dell'Aile L'Associazione Italiana Nella Lotta Per Le Leucemie Ieri Si è concluso Il percorso La navigazione Dell'imbarcazione Sognando Itaca L'imbarcazione Che era partita Da Trieste Ha fatto Tappa Anche a Giulianova A largo di Giulianova Nove le località Comunque Toccate L'ultima Quella di Brindisi Nella giornata di ieri Beh Ci ritroveremo Alle nove Con a colazione Nel frattempo Buona giornata Buona giornata